Hola a todos Vapers qui DJ Vise, è tornato dopo una lunga assenza per piccoli problemi, siamo tornati all'angolo dello svapo e oggi sono qui per parlarvi di un liquido che aspettavo da tantissimo tempo allora stiamo parlando sempre della linea Noise Vape, il liquido si trova da Puff esclusivamente e stiamo parlando del Power Dynamite, sempre in stereo Power Dynamite di DJ Swapo a.k.a. DJ Wender prodotto ovviamente dalla linea Noise Vape che è il primo a essere entrato nel mondo dello svapo con i liquidi partendo dal Noise Vape 1, 2 per poi arrivare alla Noise Vape Remix e al Noise Vape 3, siamo qui per parlare di questo prodotto, di questo liquido che è un misto tra un liquido dolce e fruttato, è un buon mix secondo me perché potrebbe uscire un liquido tranquillamente come il Noise Vape 1 che è quello però esclusivamente fruttato, a parte i cereali però comunque è molto molto fruttato qui andiamo a parlare di un liquido che ha messo insieme la fragola con il biscotto e la crema quindi portando un po' di fruttato con la fragola, nonostante che questa è molto dolce e di biscotto che rende il tutto più friabile e la crema che arriverà secondo me come retrogusto perché liquidi e la crema secondo me almeno per i miei gusti sono molto molto pesanti quindi andiamo a parlare subito e a svaparlo già drippato del Power Dynamite con la TugBot e il Goon 24 mm con Chubby sopra prima svapato abbiamo fatto la TugBot pronti? molto molto buono come immaginavo in prevalenza secondo me c'è la fragola in prevalenza sicuramente la fragola poi arriva il retrogusto di caramelle, scusate di biscotto e poi secondo me si sente pochissimo la crema molto delicato come liquido, non è troppo forte, non è troppo dolce secondo me è quel mix giusto che lo può rendere un liquido all day tranquillamente perché comunque non stufa no, sto svapando altissimi watt con un Goon che ovviamente con la resa è tanta roba ma è veramente veramente buono, è delicatissimo buonissimo buonissimo, secondo me è qualcosa di veramente tanta tanta roba andiamo a mettergli ancora una goccina giusto per ecco, alle seconde seconda barra terza svapata arriva un po' di più la crema la prima svapata vi sembrerà subito solo pam, fragola però poi sentirete sulla lingua proprio la croccantezza del biscotto molto molto buono ragazzi cosa dire oggi recensione molto molto veloce quindi ho parlato del Power Dynamite di DJ Swapo linea Noise Vape trovabile solo ed esclusivamente da Puff io ragazzi per chi cerca un liquido misto tra fruttato e dolce un liquido all day questo lo consiglio molto molto buono ragazzi cosa dire come sempre qui DJ Vise chiude dall'angolo dello svapo con il Power Dynamite e la Tag Vot ragazzi al prossimo video dove ci sarà la recensione del nuovo liquido di Gabo D Square sempre linea Noise Vape ci becchiamo al prossimo video e come sempre buona svapata a tutti e Power Dynamite e poi